Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Non era in italiano, era un Early Access, non ricordo i tempi che i voti avesse su Steam. Sapete solo che oggi è un gioco finito ormai da anni, è un gioco che è completamente in italiano ed è un gioco che costa 20€. Quindi è giocabile sia online che localmente fino a 4 giocatori ed è una cancellation, un gioco di ruolo action, con alcune particolarità che andiamo a vedere adesso perché lo cominciamo dopo praticamente quasi 8 anni e vediamo la bontà di questo titolo, ha delle recensioni positive, alcuni lo definiscono anche il miglior gioco action che abbiano mai giocato. Zagorabia, la città decaduta, la terra del non ritorno, dove le tenebre hanno preso il sopravvento e noi cacciatori abbiamo perso. La mia intenzione è un po' quella alla Van Helsing. Più di un anno fa una richiesta di aiuto ha fatto venire dei cacciatori a Zagorabia. Molti altri hanno risposto al richiamo. Nessuno è tornato. Pensavo che Adrian fosse morto finché un corvo non mi ha consegnato il suo messaggio. Mi chiamava Zagorabia, sapeva che cosa stavo cercando. Adrian è un amico, uno dei pochi amici preziosi e la sol'anima viva a conoscere il mio passato, il patto che ho fatto e i poteri demoniaci che possiedo. Devo fronteggiare qualunque cosa abbia invaso questa città per trovare il mio amico. Molto, molto bene, molto interessante. Ok, passiamo alla... Perché probabilmente mi è rimasta settata la grafica che giocai al tempo. La grafica ha... Ok, è un'altra cosa adesso. Allora, si ruota la visuale con il mouse, ma per la gioia di chi odia i giochi, clicca. Dove si clicca e ci si muove. Si può impostare anche con la modalità, ma ci si muove con WPSD. E tra l'altro, grande novità, si salta. Novità per una Crenslash se inteso alla Diablo. Victor Vann, la città è stranamente... Ok, nessun'anima vive in vista. Sì, mi spiazza un po' il fatto che sia segnato anche chi sta parlando, però... Allora, abbiamo con il tab, un po' la Diablo, la mappa. Vedete che ci sono già dei pallini rossi, quindi c'è già qualcuno che arriva. Bisogna fare bene... Ho dei seri problemi a targettare i nemici. Ok. Ok, no. Devo puntare con il mouse dove voglio colpire. Attaccare in direzione del cursore. Avevo perso il cursore per un istante. Allora, col tasto I apriamo l'inventario e abbiamo carte del destino e l'equipaggiamento. È molto più, diciamo, base di un Diablo sotto questo aspetto. Con lo Shift rotoliamo, poi ovviamente dobbiamo ricordarci di ruotare la visuale. Vedete che poi gli edifici scompaiono. È un po' spiazzante perché vi gira l'inquadratura e non capite dove siete, però... Perfetto. Sì, è un po' spiazzante appunto perché fa un salto come fosse un'altra telecamera ad inquadrare. Bello che gli ambienti sono abbastanza distruttibili. Ovviamente si usa la mappa, sappiamo già dove andare. Qua ci sono solo ragni. Io non so direvi appunto, non mi spiego come io abbia potuto abbandonare il gioco e non portarlo in video. Probabilmente non era maturo i tempi, ma... La voce sembra quasi quella di The Witcher di Geralt. Ok. Usa il salto al muro per arrampicarsi. Ma... Posso fare... Sì! Incredibile, bellissimo! Il fatto che posso rimbalzare sulle pareti. Primo spazio e salta giù in strada. Ok. C'è da far parte un attimo con la telecamera. Quello sì. C'è una voce che mi dice mi senti? Una voce nella mia testa? Se mi senti fai un salto. Ora seduto. Scherzo. Voglio vedere la mappa. No, devo andare avanti di là, sì. Se muori, ritorno a questo punto. Perfetto. Posso saldare di sotto? No, in questo caso no. Però c'è un mostro abbastanza grosso. Aranio gigante debole. Che va giù come niente, però. Questo è uno di quei giochi che se lo si trova troppo facile, non si gioca a difficoltà alta. Sì, fa anche il salto con il danno. Due volte il tasto direzionale si rotola oppure con lo shift. Perfetto. Non si può entrare da qui? No. Vabbè, diamo un'occhiata intorno a cosa c'è. Vediamo se c'è qualche via alternativa per entrare. Ma non credo. Sì, da qua. Ma è carino perché comunque fosse stata un'immagine fissa. Invece è ruotabile. Quindi è proprio un mondo 3D. Adesso diamo un'occhiata qua. Ma noi arriviamo da là. Abbiamo attraversato il ponte. Sotto c'è tutta la città. E stanno arrivando anche i nemici. Tra l'altro, ecco, l'unica pecca davvero è la telecamera che ogni tanto fa sto scattino. E probabilmente in base a... Ma magari qualcosa anche di risolvibile. Grazie alle impostazioni. F, fortezza ricaduta, si entra. Bella la schermata qui di caricamento. Animata. Allora, primo F, sal... Ok, siamo all'interno. Allora, è molto interessante per il fatto che c'è un cambio di ambientazioni. Story drive, ovviamente. Apri la porta. Sembrano robusti questi manichini. Allora, attacchi i manichini usando gli attacchi speciali della tua arma Q e E. Ogni arma ha un attacco base e due potenti attacchi speciali. Ecco la E e con la Q. Ok. Sì, perché sono riportati qua, vedete, con la E slancio e con la Q squarcio. Bevi una porzione di cura col tasto 1. Perfetto. Riempi la tua barra della rabbia e usa i poteri demoniaci. Ok, vedete che più colpiamo, più sale questa barra qui e usiamo i poteri demoniaci con la... E col tasto 3. Meteorite. Posso scegliere dove? No, ma lo lancio in automatico. Ok, usa quello che ho imparato per scompeggere le mostre nella prossima. Ok. Allora, non c'è una selezione di classe, siamo Victor e Verano in questo caso e basta. Facciamo salire la nostra rabbia. La nostra rabbia sale sia usando le mosse speciali dell'arma, sia combattendo normalmente. Vedete che sta salendo. Abbiamo preso un forziere. Allora, posso dirvi come parire primario, insomma. Ah, ok. Eculpaggiamo un nuovo fucile. Eh, come ho detto, è un po' la Van Helsing. Abbiamo, adesso siamo passati a un fucile. Col Q e con la E. Ok, così colpiamo tutti i nemici. Cambiato notevolmente lo stile di gioco, cambiando l'arma. No, dicevo. Porto questo gioco quasi otto anni dopo la sua uscita, seppur in Early Access. 19,99€. Li vale. Allora, li vale in un caso. Allora, il gioco è senz'altro fatto bene, ma lo si sapeva già negli anni di sviluppo, perché non l'ho mai portato. Allora, il gioco lo vale. Poi, se siete dei fan, ha maggior ragione. Fan, intendo, di questa ambientazione e di questo stile di gioco. Se non siete fan nello specifico di questo, o avete qualche dubbio, che magari possa piacervi, o magari non avete amici con cui giocarlo, perché può essere anche quello un fattore importante di valutazione, lo potreste valutare sia in sede di saldi Steam, sia con l'acquisto, con il codice referral di Instant Gaming, che trovate sotto ogni video, se volete dare una mano, insomma. Però, a parte la marchetta, può essere interessante, appunto, anche a prezzo scontato. Adesso non so dirvi a che prezzo, però sicuramente meno. Di solito i giochi che non hanno comunque questo, che non hanno, non sono molto recenti, costano veramente spesso una stupidata. Abbiamo preso un'altra spada, qualcosa di luccicante. Perfetto, vedete qua abbiamo trovato un segreto, perché, se non sbaglio, noi dobbiamo andare di qua. E invece siamo saliti sul ponte, questo ha creato una deviazione. È carino il fucile, assolutamente non male, calcolando che ha l'attacco multiplo, che attacca tutti i nemici con un'ondata, un ventaglio di colpi. E qua forse abbiamo... ok. C'è questa scena qui, in cui spiega qualcosa. Poi il gioco non è vecchio, ci vuole un... Cioè, è un po' vecchio, quindi ci vuole un attimino proprio velocissimo per caricarlo, non fa in tempo a caricare. Prima e invio, ma intanto c'è la scena animata che ci mostra quello che stiamo vedendo all'interno. Ed è un'ambientazione alla Van Helsing, ma da quello che vedo è un po' stile anche steampunk, o dieselpunk, insomma, che vogliamo. Ci possiamo vestire in ogni modo vagabondo. Mi piace molto, mi piace molto anche questo. Ecco qua. Allora, se hai un stile di gioco in cui li ha parlato, vuoi essere solido in circostanze difficili. Gentiluomo, stregone, precisione colpi critici e vagabondo. Questo è il nostro regalo speciale per tutti quelli che ci hanno sostenuto. E concede automaticamente rabbia nel tempo, ma i tuoi attacchi con le armi non generano più rabbia. Ah, carino, però mi ispira lo stregone. Modalità casuale, normale. Allora, la casuale è da casual. Normale o difficile? Normale. Personaggio normale o robusto? Questo è in hardcore. Quindi praticamente i personaggi robusti diventano normali quando muoiono per la prima volta. Non condividono i soldati scorta con i personaggi normali. No, non subiscono svantaggi quando muoiono. Normale. Sì, continuiamo. E qua inizia. Ecco, vedete. Ok, trasmutazione a livello richiesto 16. Possiamo fare modifiche al nostro personaggio. Questo dovrebbe essere una sorta di hub per noi. Costume montanaro. Parliamo col tizio. Sono Damian alchimista. Ti posso aiutare con riferimenti utili, come le pozioni e le bombe. E tu mi potresti aiutare con il tuo oro. Si dice che noi alchimisti possiamo trasmutare l'oro in aria, ma è tutto per il bene della scienza. Dai un'occhiata al mio inventario. In questi giorni non c'è molta richiesta da parte dei cacciatori. Commercio. E possiamo commerciare. Quindi questo è quello che è lui. Questo è quello che abbiamo noi. Abbiamo un'arma che fa molto meno danno. E la potremmo anche vendere. Ok. Abbiamo un bel fucile. Questa. 835. Questo vale un sacco di soldi. Niente. Diamo un'occhiata qua se c'è qualcosa altro che si può fare. No, non credo. Si può sparare. Questo, missione. Un altro cacciatore viene per salvare la situazione. Forse questa volta avremo la possibilità di andare contro le ore dei numerevoli. O forse morirai, come tutti gli altri. Il mio nome è Victor Run. E non mi aspettavo questa sorta di benvenuto caloroso a Zagoravia. Sto cercando un amico. Quando lo trovo non intendo rimanere un minuto. Si, è tradotto un po' così senza i tempi verbali. Senti, Run, non mi importa niente. È una sola regola. Non permette l'impossibile la sua maestà. Ogni giorno cerco di convincerla a rinunciare alla speranza di salvare questa città. Con te in giro, lei diventerà ancora più risoluta a rimanerci e morire. In questo castello maledetto. Cosa succedesse? No, se succedesse questo, ti riterrei. Vabbè, personalmente responsabile. Va bene, abbiamo parlato. Questa è sua maestà? No, il patriarca Casimir. Va bene. Cosa possiamo fare con questo? Niente. Qua c'è una mappa. Apri la mappa. Bello questo. Muove la visuale. Ma non so cosa possiamo fare con la mappa. Perché qui la mappa è veramente molto bella. Ne siamo al castello. E c'è tutta la mappa. Qui non è grandissima, ma abbiamo visto. la mappa. Adesso ruotiamo la visuale. Andiamo verso questo sarà... No, non è niente al momento. Pensavo un deposito. Qui ci sarà... La regina Catarina. Grazie per aver risposto al nostro richiamo. Va bene, sono a me stai per la sicurezza. Apri la mappa e vai ai giardini reali. M. Andiamo ai giardini reali. E quindi si comincia. Usa 10 potere demoniaci. Elimina 25 uova di erani. Uccide tutti i nidi di erani nell'ambiento. Uccide Argus, il mago terribile. Uccide il maestro di scacchi. È interessante perché si inizia così. Vi deve proprio piacere la modalità. C'è di nuovo la nostra voce che ci parla. E abbiamo questo stile da stregone adesso. Che cambia il tempo di ricarica delle varie abilità. Poi salendo di livello abbiamo la possibilità anche di fare il respect. Adesso, vedete, sotto questa barra blu dovrebbe essere l'esperienza. Vediamo un attimo cosa succede anche a fine esperienza. Aspettate che io premo E adesso e sparo tutti. Ok, ottimo, molto bene. Sapete che forse non sono proprio contentissimo di questa classe. Cioè di quest'arma. A meno che... Eccola E. Ok. Oh, si sono spaventati tutti. Beh, devo curarmi con l'uno. Sì, poi faccio fatica a leggere mentre sto combattendo. Ok, molto bene. Eccola Q. Ok, molto bene. Uno. Mi curo. Ah, devo distruggere sto affare qua. Eh. E anche questo. Devo far salire la rabbia in modo da... Pian piano si livella. Ci mettiamo un po', eh, di verità. Mostri ammazzati e 54. Sì, credo sia più legato alla questione di livello da affrontare e battere. Più che sulla progressione. 25 uova di rana ne abbiamo distrutte solo due. Sarà una roba lunga, lunghissima. Abbiamo delle porte qua ad aprire. Eh, sì, vedete che abbiamo fatto i passi fino... Fino adesso in questa zona qua dovremmo andare di là. Mi dimentico di riportare la visuale arrivando da... Dai Diablo, varie. Però... Avendo comunque anche il discorso action... Adesso uccidiamo anche il terzo... Terzo... Ovetto. Adesso ce n'è un altro qua. Buttiamolo lì. La deflagrazione. Ok, molto bene. Molto bene. È devastante questa cosa. Ma... Adesso appena ho modo di luttare a qualcosa cambio arma. Di qua cosa c'è? Di qua c'è una porta, quindi c'è un obiettivo forse. Prendo un'altra pozza. Questa... Sì, questo c'è il labirinto. Si parlava del labirinto prima. Infatti il labirinto è qua. C'è il ragno gigante. Però sono... Sembrano essere belli coriacei sti... Sti lancio... Questo. Ma vediamo se riesco a ucciderne qualcuno. Perché sembrano veramente forti sti... Sti ragnozzi qua. E va gestito bene. Cambia totalmente il gameplay rispetto alla spada. Devo prendere un'altra pozione. Però sto facendo anche un botto di esperienza... Qua nel labirinto. E' tosto. Forse anche col pad non sarebbe male da giocare. Comunque si è diverso rispetto al... È quasi più comodo da controllare perché... Ok. Questo fa veramente molto male. Salto. Uso la E. Che mi fa il mega danno. A tutti. Perfetto. Non so esattamente cosa debba fare nel labirinto. Ma adesso riguardiamo gli obiettivi. Tutti i nidi di rani nel labirinto. Ok. Perché vedete la mappa. La mappa è bellissima. È veramente molto bella. Fa capire quanti mostri ci sono ancora in giro. Lì in mezzo non so cosa ci sia. Ma adesso facciamo un po' di pulizia. E vediamo. Intanto continuano ad arrivare i mostri. Questo cos'è? Usa rabbia. Ok. E' vigore. Ok. Facciamoli entrare tutti qui. Che facciamo un botto di esperienza. Succedendoli tutti di colpo. Altra pozioncina. Purtroppo. Devo buttarla. Questi. Via. E poi passiamo a ucciderli tutti. Volta per volta. Sì. Ragno per ragno. Quello lì è rosso. Non so cosa sia. Devo. Adesso devo lanciare un'altra abilità. Col 3. Premo lì. Così me li lancia tutti qua. Me li uccide tutti. Siamo a un passo dal livellaggio. Ok. 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 Abbiamo livellato. Quindi volevo chiarire anche quest'ultima cosa. Adesso è un casino con la rotazione della visuale perché sulla mappa non cambia. Perché non ruota con me quindi devo un attimino capire ero qua prima. Adesso diamo un'occhiata al livellaggio. Abbiamo livello 2 carte del destino. Ora puoi equipaggiare carte del destino che concedono diverse abilità passive. Ogni carta del destino richiede punti di destino e uno slot del destino libero. I punti di slot aumentano a determinati livelli. Vai avanti. In aggiunta alla tua nuova abilità guadagni un oggetto bonus ogni livello. Prego di selezionare la tua ricompensa. Quindi forza. Il guerriero. Allora. La speranza mi dà 1, 200 d'oro e 250 di salute. 5% di danni in mischia. E 6% di colpo critico. Mi piace questo. Voglio questo. Ok. E sono aumentato il livello. Ok. Col codex. Ok. Questo è. Storia. Con il riassunto della storia. Consigli di gioco. I mostri. Questa è tutta la parte diciamo di codex. Mappa e sfida con le sfide da affrontare. Ovviamente dobbiamo seguire la missione che è qua in alto. Poi. L'online. La cooperativa locale. Possiamo passare a modalità casuale. Quindi far diventare la partita più facile. Ragazzi. Questo mi sembra molto 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 interessante. Seppur vecchio è un gioco che gira ancora bene e graficamente. Per il tipo di gioco che è. Va ancora benissimo. 19,99. Ma vi ricordo. Date un'occhiata anche col codice referral sotto il video. A Eastern Gaming. Che magari lo trovate a paio di euro. 5 euro. Insomma. Meno 20. Se no. Se siete un po' indecisi. Potete aspettare anche i saldi Steam. Però se siete appassionati di action. RPG. Un po' la Diablo. Ma col controllo. WPSD. Anziché tutto full mouse. Questo potrebbe essere un gioco per voi. Lo avevo da 8 anni. Non l'ho mai portato. Non ci avevo giocato forse 15 minuti. No. 5. No. 5 o 15 minuti. Adesso mi ricordo. Ma non l'avevo mai portato in video ai tempi. Avevo appena iniziato il canale. Insomma. Ho deciso di riprenderlo in mano. Perché sto un pochino esplorando. Diversi action. Un po' la Diablo like. Insomma. Quindi. È toccato anche a Victor Bran. Spero vi sia piaciuto. Vi invito. Vi invoglio. Vi incito. A lasciare un commento qua sotto. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Grazie. Grazie.